Dopo un lungo periodo di problematiche varie, il Piano Urbanistico Comunale a Battipaglia torna al centro dell'agenda politica di Palazzo di Città. Riprende il percorso di formazione del Piano Urbanistico Comunale, fanno sapere, aprendo ad una fase di ampia partecipazione ad ascolto, dedita soprattutto ai cittadini, alle parti sociali e al mondo del lavoro. L'obiettivo da raggiungere proprio attraverso quest'ulteriore fase di partecipazione è quello di giungere ad un PUC capace di portare servizi in ogni quartiere, pur nel rispetto del principio del consumo di suolo zero. L'amministrazione guidata da Cecilia Francese incontrerà prima le categorie lavorative come operatori del settore enogastronomico e ricettivo, commercianti, artigiani, mondo della scuola. In seguito si procederà con incontri per quartiere al fine di individuare le varie criticità. Lo avevamo annunciato lo scorso aprile alle parole della sindaca. Riapriamo alla partecipazione dei cittadini cercando di arricchire la prima stesura, correggendo quello che non va attraverso un percorso di continuo affinamento. Da ora, aggiunge, si riparte con l'ascolto di tutte le categorie dei cittadini in tutti i quartieri e della politica. Un percorso democratico altissimo che servirà proprio a realizzare uno strumento di programmazione urbanistico il più partecipato possibile.